L'operazione Piazze Pulite nasce dall'esigenza di contrastare la microcriminalità, in particolar modo quella dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, nelle zone più problematiche della città di Arezzo. Dieci arresti nelle zone calde dello spaccio Aretino, Guido, Monaco, Saione, Campo di Marte, Parco del Pionta, oltre 11.000 euro recuperati e centinaia di dosi già pronte per essere cedute e sequestrate. E' questo il bilancio dell'operazione Piazze Pulite, un'operazione vecchio stile andata avanti per due mesi. Non è stata fatta una cosiddetta indagine strutturata, non sono stati usati metodi tecnologici di investigazioni, ma i cinque operatori della squadra narcotici e della squadra mobili di Arezzo, ventre a terra, sono rimasti per strada dalla mattina alla sera a fare appostamenti, filmati, pedinamenti, per arrivare ad individuare le dimore e i luoghi in cui tenivano occultato lo stupefacente e gli spacciatori, al fine di effettuare una perquisizione, rinvenire lo stupefacente ed arrestare i soggetti che poi sono stati arrestati. In manette sono finiti 10 piccoli pusher. 9 clandesini tutti quanti provenienti dalla zona del Maghreb, Tunisia, Algeria e Marocco in particolare. Con precedenti? Sì, tranne credo un unico incensurato, poi gli altri erano tutti con precedenti specifici per la maggior parte e qualcun altro con reati contro il patrimonio. Nel corso dell'operazione si è reso necessario anche l'intervento di uno spurgo e di una gru per recuperare alcune dosi di stupefacente occultate all'interno delle fognature o addirittura sui tetti in pieno centro cittadino. Tutti tentano di disfarsi delle dosi quando purtroppo la polizia bussa alla porta. Loro hanno utilizzato sia la colonna fecale buttando le dosi nel water, sia la finestra. Il che ci ha costretto, visto che prima di entrare a fare la perquisizione stavo monitorando già lo stabile, da un lato a chiedere il concorso di una persona che, nominato ausiliario di polizia giudiziaria, provvedesse allo spurgo della fecale, dall'altro il concorso di un altro ausiliario di polizia giudiziaria che con un cestello ci permettesse di arrivare ai 12 metri di altezza per recuperare dalla grondaia le dosi di sostanza stupefacente che erano state nascoste lì dentro.